Il sogno di Pechino E questo è l'11.8 per Smirnoff Ma questo è il tennis tavolo Spot più bello Non poteva esserci Uno scambia anche questo da catturare E da mostrare Quando si deve parlare di sport Lei porterà questo al presidente del CONI Petrucci Ecco cosa si fa Il sogno di Pechino Wow 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 Das war gut gesehen Zunächst schon einmal Unglaublich gespillt Ah tol Zieht er erst mal durch Mit derue count Mal on Of the match How there was exactly where he is count Two match points And there it is Alexis Smirnoff Has done it He wins 3-1 Against How And Ordenberg Have taken UMMC To the corners There it is it was Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti